Dove vi sembra di essere? Cosa è collegato a questo suono? Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi voglio fare un video dedicato a un trigger che non penso che vi avrò mai portato all'ordine questo trigger si chiama ear, orecchie, tapping, olli copertura delle orecchie è un effetto molto particolare che si può ottenere attraverso con questi microfoni e visto che siamo ad agosto e come ho anticipato pubblicherò solo video un po' più corti e semplici e incentrati sui trigger ho pensato a punto di guardarmi a questo suono quindi mi ricordo che ad agosto ci saranno dei video più corti, più semplici ma riesceranno a regolarmi anche quindi lunedì e lunedì alle 19.30 può darsi che uno o due scena anche di mercoledì non saprei ancora quindi mettetevi piace su questo trigger, vi piace e datemi anche suggerimenti su che tipologia di video vorreste vedere in questo mese quindi subito dei trigger in particolare è stranissimo è stranissimo è stranissimo è stranissimo e come se mi ascoltasse da sott'acqua immaginate di essere immersi in acqua cristallina e sentite questa voce che viene da lontano oppure ad esempio una voce che viene in sogno questo fondamentalmente è l'effetto che dà l'avevate mai ascoltato questo trigger? penso che in Italia ci siano pochissimi pochissimi video con questo trigger è un pochissimi pochissimi Volevo chiedervi anche se il mio altro sfondo Ho cambiato il colore delle luci Le ho messe un po' dal basso verso l'alto Devo dire che mi piace molto l'effetto Un po' di close of whispers Da orecchio Da orecchio Da orecchio Da orecchio Cosa mi ricorda questo effetto? Dove mi sembra di essere? Cosa è collegato a questo suono? Cosa 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 Sì Poi questo tricchere bello perché non può essere molto buono Può essere un neo dropping Molto delicato Come questo Può essere più forte Come questo O ancora più forte come questo Può essere più forte 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 tu mi asoprovi, mi asoprovi, mi asoprovi si aggiunta l'ora di te a par a par a par a curare a curare a curare a curare a curare una 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 soñitor due ass as as un ass n po n buonanotte buonanotte pastiggini buonanotte pastiggini buonanotte crostatine maggiore te l'espero te l'espero